SON BENISSIMO Sono benissimo delle intimidazioni, delle violenze, ma questo non può essere un alibi per vendere favori, siamo d'accordo? No, io voglio salutare. La nuova tiratura! Facciamo bene a mettere al mondo un figlio. Il nostro figlio non ha nessun problema nel nostro lavoro. Troveremo che ha ucciso Umberth, te lo prometto. Chiederò un trasferimento. Dove vorresti andare? Ovunque. Andrò dove nessun altro vuole andare. Non deve succedere mai più che colpisca un agente. Lei è un altro membro dell'amministrazione. Isolamento! Tu come stai? Non riesco a capirlo. Beh, male. Riusciremo a far luce anche su Umberth, Ormide. A presto. 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 Grazie.